Il PD regionale ha cancellato la sospensione di Roberto Bartoli dalla PD seguita alla telefonata con Simona Leing. Come si ricorderà, Leing voleva candidarsi alle regionali, Bartoli la sconsigliava ricorrendo anche a male parole. La telefonata fu registrata dall'allora presidente delle farmacie comunali pistoiesi e finì sui giornali e televisioni nazionali. Fu un polverone per il PD pistoiese che si preparava alla selezione delle elezioni regionali del maggio scorso e fu uno scontro tutto interno alla corrente dei renziani della prima ora. In prima battuta Bartoli era stato sospeso ma il nuovo giudizio ribalta il primo. Dopo mesi di riflessione il collegio di garanzia del PD ha infatti deciso che non è possibile prendere una misura disciplinare su una telefonata privata registrata e diffusa all'insaputa di uno dei due interlocutori, sottolineando anche che la conversazione fra Leing e Bartoli non coinvolge terze persone.